Cari amici di democrazia, sovrana e popolare, buona domenica. Oggi vi vorrei parlare della situazione politica e culturale nel nostro Paese. Nell'ultima settimana, come forse saprete, sono stato ospite nella trasmissione condotta egregiamente da un giornalista serio e onesto come Pancani. Sto parlando naturalmente del programma Coffee Break in onda su La Sette. Ho incontrato in studio figure diverse, giornalisti, politici, tutti però comunati da una stessa pulsione, un fastidioso astio nei confronti del libero ragionamento, un'incapacità nel confrontarsi con posizioni che evidentemente non sono previste nel dibattito complessivo. Quelli che hanno guardato la trasmissione si saranno accorti di come sia davvero difficile all'interno di un contesto televisivo mainstream provare a far passare delle idee che agli occhi delle persone in buona fede sono di semplice buonsenso, ma che dentro quel tubo catodico diventano addirittura espressione di un pensiero che potrebbe armare la mano dei terroristi. Così mi è stato detto da un personaggio abbastanza grigio di Forza Italia che in diretta si è permesso persino di rimproverare il conduttore colpevole e di avermi invitato e di aver dato voce e rappresentanza anche a chi come noi crede che la soluzione per il conflitto medio orientale non sia il bombardamento indiscriminato di Gaza e della Striscia né la deportazione dell'intero popolo palestinese. Questa situazione mi ha fatto riflettere in maniera molto profonda e ho sviluppato un pensiero amaro, ma purtroppo aderente alla realtà. Noi oramai siamo dentro un meccanismo concettuale che inverte completamente e alla radice il significato dei concetti. Tutte queste persone che si presentano come espressioni di forze moderate, ragionevoli, europeiste, liberali e globaliste in realtà nascondono dietro questa patina formale di politicamente corretto una violenza malamente dissimulata che viene fuori alla prima occasione. Come è possibile che nel nostro paese, che ha storicamente una tradizione all'insegna della grande diplomazia, della capacità di mettere insieme personalità e nazioni in conflitto, il nostro paese che è stato nel passato al centro di un dibattito complessivo improntato alla vera capacità di mediazione, basti pensare al ruolo dei giganti come Aldo Moro o Enrico Mattei, sia oggi stato trasformato in un avamposto bellicista, muto e servente rispetto ai desiderata degli atlantisti più guerrafondai? E come è possibile che il paese che noi eravamo, capace di essere guardato con rispetto e ammirazione in ogni angolo del mondo, sia oggi un appendice irrilevante e molto chiassosa di un morente mondo atlantista che oramai, proprio perché debole, si mostra feroce e incattivito? E' mai possibile che in un paese come il nostro lo spazio di intervento, di ragionamento e di analisi di quelli che chiedono l'apertura di un tavolo di confronto fra israeliani e palestinesi, ebbene è possibile che non si possa dire questo, è possibile dover vivere dentro un paese dove le uniche parole d'ordine sono quelle improntate al massiccio invio di armi, ora in favore di Zaleschi, ora in favore di Netanyahu, è possibile che l'unica soluzione sia sempre quella del muro contro muro, è possibile dover puntare sempre allo sterminio e alla resa incondizionata di quelli che vengono di volta in volta presentati come nemici barbarici di un occidente angelicato che è bravissimo nell'assolvere sempre e comunque se stesso, ebbene noi di democrazia sovrana e popolare non vogliamo accodarci a questo fanatismo sterile e pericoloso, noi vogliamo continuare a tenere il punto, sapendo che tenere il punto in una condizione di isterismo diffuso è davvero difficile, ma vogliamo mettere insieme quelle persone che non sono facilmente suggestionabili dalla gran cassa mediatica, che non hanno voglia di gettare il cervello all'ammasso, che non si fanno ammaliare da semplificazioni che non spiegano, non vogliamo iscriverci a nessuna delle tifoserie oggi in campo, vogliamo semplicemente cercare di ridare dignità alla politica che è gestione dei conflitti attraverso il rifiuto della violenza, la politica non serve quando suonano le baionette, la politica non serve quando scoppiano le bombe, la politica serve proprio per prevenire che i conflitti producano drammi come quelli che vediamo oggi in Ucraina e in Medio Oriente, la politica serve tra uomini ragionevoli e sensati per trovare punti di compromesso che impediscano all'uomo di sprofondare dentro atmosfere di pura malvagità e di pura barbarie. Cos'altro è la guerra, cari amici, se non la negazione dell'uomo? Cos'è la guerra se non l'esaltazione del male fino a se stesso? Il nostro dovere di uomini politici non è quello di assecondare questo desiderio tipico delle società anglosassoni di risolvere i problemi sempre attraverso l'uso indiscriminato dei muscoli. Il nostro compito deve essere quello di trovare invece dei punti possibili di incontro, anche e soprattutto lì dove le distanze sembrano siderali e incolmabili. Non esiste agli occhi di un buon politico un problema che non sia risolvibile attraverso il ragionamento, attraverso la faticosa tessitura delle posizioni, attraverso il riconoscimento dell'altro quale interlocutore necessitato. L'idea, questa sì davvero fanatica, di non dover mai confrontarsi con nessuno, di dover risolvere le questioni sempre semplicemente utilizzando la violenza, non è il risultato di un occidente che esprime un pensiero politico elevato, è una regressione ai momenti più barbari, più vili della nostra storia, è una negazione del concetto stesso di progresso umano e un ritorno, cioè allo stato della giungla. Tutti quelli che non vogliono vivere dentro questo tipo di mondo, tutti quelli che non vogliono mettersi un almetto, oggi a favore di Zelensky, domani a favore di Netanyahu, dopo domani chissà a favore di chi, vengano insieme a noi. Ci diano una mano nel costruire una forza popolare, composta da persone che vogliono fare contare il loro diritto alla sovranità procuota, proprio per non essere costretti ad iscriversi e ad allungare le liste dei pericolosi guerrafondai che abbondano nel nostro Paese, oramai chiaramente eterodiretto dall'esterno, da forze che non hanno a cuore né la sovranità popolare, né la stabilità del mondo, né la vita delle persone. Dobbiamo smetterla di ritenere l'Occidente un luogo eccezionale che ha il diritto di colpire con la massima violenza popoli e nazioni che reputa intimamente inferiori. Dobbiamo abbandonare per sempre questa malsana pulsione neocoloniale che ci porta a rappresentare, a leggere, a interpretare le situazioni all'insegna del più perfido due pesi e due misure. La morte di un arabo viene considerata statistica, la morte di un occidentale è invece una tragedia ed un abominio. Invece dobbiamo imparare a vedere nella sorte, nella vita, nella sofferenza, nella disperazione di gente che appartiene a popoli, a identità e tradizioni diverse, dobbiamo imparare a condividere con loro lo stesso dolore che siamo abituati a condividere quando situazioni tragiche colpiscono quello che noi reputiamo il mondo civile e globalizzato. Non esistono persone di serie A, non esistono civiltà superiori alle altre e l'Occidente rischia di finire isolato all'interno di un mondo che cambia se non avrà l'umiltà di rivedere questa impostazione perversa che oramai non è più accettata in nessun angolo del mondo. Non siamo più noi occidentali isoli a poter guidare un meccanismo storico che prosegue su binari oramai tracciati anche a prescindere dalle volontà politiche, economiche, intellettuali e culturali che vengono partorite a Londra, a Washington e a Bruxelles, capitali importanti di un mondo già multipolare che non si esaurisce però all'interno del solo giardino occidentale. Questo processo chiaramente irreversibile deve essere accompagnato, accettato e accolto da classi dirigenti occidentali che non devono per forza pensare di poter guidare ancora per molto tempo dei processi storici sulla base dell'utilizzo esclusivo di una violenza fine a se stessa. Le classi dirigenti miopi e arroganti che pensano ancora oggi di mantenere il predominio occidentale a furia di bombe, minacce e ricatti allungheranno soltanto un'agonia che non impedirà infine alle potenze emergenzi di ricavare e ritagliare uno spazio di manovra all'interno di un mondo che è già cambiato nonostante miopi, arroganti, atlantisti, bellicisti, ancora ubriachi del concetto della fine della storia, caro a Fukuyama, anche se tutte queste persone non vogliono vederlo. Ci esistono anche in Italia figure che invece sanno leggere i tempi, sanno interpretare i cambiamenti storici, sanno non essere travolti dagli eventi, ma semmai guidarli e indirizzarli per il bene di una umanità non cieca, non passiva, ma protagonista di un futuro che costruiremo insieme. Avanti con democrazia sovrana e popolare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.